Il tifo irrompe in questa lunga campagna elettorale per il Comune di Napoli. Un po' per sincera passione azzurra, un po' per opportunità mediatiche. Così il candidato del centrodestra Catello Maresca oggi fa tappa nel ritiro del calcio Napoli a Castel di Sangro per incontrare De Laurenti se qualche calciatore. Foto di rito e post sulla pagina social dove si è intensificata l'attività del magistrato negli ultimi giorni. Nel centrosinistra il candidato sindaco Manfredi punta tutto su una comunicazione più diretta mostrando in un video il suo lato più intimo dal titolo Chiamami Gaetano in cui racconta la passione per il cinema di fantascienza e i Led Zeppelin. Bassolino continua a preferire i comizi in piazza mentre Alessandra Clemente consolida la rete di contatti maturati durante la consigliatura d'Ema. Dietro le quinte si lavora lacrimente alla composizione delle liste. Nel centrodestra l'alleanza tra forze civiche e partiti inizia a scricchiolare. Essere Napoli continua a lanciare strali contro la Lega. Mentre la coalizione progressista punta a chiudere su 13 liste. Quattro i pilastri portanti a sostegno di Manfredi. PD, Movimento 5 Stelle, De Lucchiani e Napoli Solidale di Sergio D'Angelo. Intanto la notizia secondo cui Giuseppe Conte avrebbe intenzione di candidarsi personalmente nella lista del Movimento 5 Stelle per le amministrative di Napoli è totalmente priva di fondamento. Lo ha fatto sapere lo staff del nuovo leader del Movimento 5 Stelle. Conte si è speso in prima persona per l'eccellente candidatura di Gaetano Manfredi, si sottolinea, e continuerà a farlo perché il patto per Napoli diventi lo strumento concreto di rilancio della città.